La Montepaschi riparte dopo l'unica sconfitta stagione di quest'anno patita a Roma. Lo fa imponendosi all'Aeravellino con un netto 91-74 che matura soprattutto al ritorno dal riposo nel giorno in cui i campioni d'Italia dovevano fare a meno di Terrell McIntyre. Una settimana dopo aver fermato la cavalcata a Trionfale di Siena, appunto, Roma viene travolta a Cantù 79-61 sotto dall'inizio alla fine, incapace di ridurre il margine in singola cifra dopo il 25-17 del secondo quarto. La Virtus prende una sonora lezione. La NGC vince la quarta in fila e lo fa con una prestazione corale superlativa mentre all'ottomatica chiude con un solo giocatore, Winston, a 14 punti in doppia cifra contro i 5 dei Brianzoli. È insaziabile la fame di Montegranaro. Dopo il successo nel derby nelle Marche si conferma seconda in classifica al centrando contro Cremona la decima vittoria consecutiva. L'Avanolici ha provato, buona prova di Bell, ma l'energia è durata solo poco più di un tempo. La banca Tercas-Teramo abbatte l'Angelo con una prova di personalità in una partita nervosa e difficile. Trascinata sin dall'inizio di un ottimo young, la formazione abbrunzese prova da subito a imprimere il suo ritmo con la presenza sotto i tabelloni e ci riesce alla grande. Seppur privi di grandi, non si arresta la risalita salvezza della Carife che supera Varesse col pieno merito. Determinante la prova di Ford, 17 punti, 14 rimbalzi, 4 palle recuperate e 7 stoppate. Finisce con il solito divario abissale l'ennesima apparizione della Sebastiani che appare sempre più demotivata. Comprensibili, i ragazzi di Rieti di sicuro non si divertono a prendere queste scopole. Il match serve al coach della Benetton Jasmine Repescia per dare spazi ai ragazzini. De Nicolao, Sandri e Fabbi sembrano fenomeni rispetto ai cotani della Sebastiani. I tifosi trevigiani ne approfittano invece per contestare squadre società ritenute colpevoli della stagione deludente. Il posticipo premia la Scavolini che dopo due mesi senza vittorie interne torna a sbancare la sua arena ritrovandosi con il penultima in compagnia di Ferrara e Cremona. Una boccata d'ossigeno per i marchigiani dopo le polemiche, il caso Green e l'aria pesante circa il futuro del club. Milano incappa invece in una giornata accia e viene tenuta a bada per tutti i 40 minuti.